Biblioteche e fiabe Letture per bambini a cura delle biblioteche comunali di Perugia Il piccolo calzino di John Kiwi Lettura a cura di Veronica Perrone Volontaria del servizio civile presso la biblioteca Villa Urbani di Perugia È il giorno della lavatrice per i calzini Oh no! Il piccolo calzino cade fuori Devo andare a casa, dice il piccolo calzino Sai, sai qual è la via di casa? Chiede il piccolo calzino No, ma prendi questo Dice il robot Sai qual è la via di casa? Chiede il piccolo calzino No, ma prendi questo Dice il topolino Sai qual è la via di casa? Chiede il piccolo calzino No, ma prendi... Ups! Magari la biglia C'ha la strada di casa Dice il piccolo calzino La sa! Dice il piccolo calzino Il piccolo calzino è felice Fai il tuo piccolo calzino Calzini differenti hanno personalità differenti Quindi, prendi il tuo preferito Avrai bisogno di Un calzino Due bottoni Ago e filo Un adulto per aiutarti Chiedi all'adulto di cucire i bottoni sul calzino Molti! Dice il piccolo calzino Bisograba! Grazie a tutti.